Giuseppe Pitta ha fermato le bocce, ha protocollato le sue dimissioni e ha avviato il conto alla rovescia. Le tensioni delle scorse settimane hanno prodotto un primo risultato. Non è chiaro se la decisione di Pitta sarà definitiva. Quel che è certo è che adesso occorre mettere insieme i numeri per poter andare avanti. La coalizione Facciamo Piazza Pulita, promossa dall'ex sindaco e consigliere regionale Antonio Tutolo, si è disfatta sotto il peso di una crisi politica tutta interna alla maggioranza. Prima il gruppo CON che il 20 maggio scorso ha comunicato per bocca del capogruppo Vincenzo Cecchia l'uscita dalla maggioranza parlando di un progetto che avrebbe tradito la prosecuzione dell'avventura inaugurata da Tutolo e di giochi di potere e di forza che hanno determinato la perdita di finanziamenti importanti per la città, la mancanza di condivisione in molte scelte e l'assenza di coesione ed unità. Poi il 24 maggio la lista Agricoltori per Lucera ha fatto lo stesso privando Pitta di ben cinque consiglieri con una maggioranza non più autosufficiente. Il 25 maggio era stato l'assessore all'istruzione Pierluigi Colomba a dimettersi dopo il disimpegno del proprio gruppo consigliare, al cuore si era unito il vice sindaco e assessore alle attività produttive Nicola Di Battista, lasciando il sindaco con due assessori in meno sui sei complessivi. Gli abbandoni registrati nella maggioranza sono frutto di problemi personali e screzzi tra consiglieri, dichiara Pitta. Questa non è politica, almeno per come la intendo io. Nonostante lo strappo di con, ho mantenuto i loro assessori in giunta e ho continuato a lavorare perché c'erano scadenze importanti, aggiunge il sindaco di missionario. Domani spiegherò alla città come mai, dopo solo otto mesi, mi sono dimesso, dice Pitta. Verificherò se ci sia la possibilità per continuare. Diversamente non intendo partecipare o sottostare ad alcun mercato, conclude. Io posso tranquillamente tornare a fare l'avvocato. Adesso scattano dunque i 20 giorni che trascorreranno con l'indicazione di Emanuela Gentile come vice sindaco con il compito di guidare in assenza di Pitta il percorso che riguarda, tra l'altro, quattro progetti da candidare ai bandi sulla rigenerazione urbana riguardanti l'area esterna del castello, i sotterranei dell'anfiteatro, gli scavi di Piazza delle Terme Romane e la zona tra Via Petrilli e Piazza Santa Caterina.